Una rete di telecamere per garantire la sicurezza e combattere il degrado nella zona del Macrolotto 1 ad installarla sarà il CONSER, il consorzio che riunisce i proprietari di immobili dell'area industriale mentre la gestione sarà affidata al Comune. Nei giorni scorsi è stata sottoscherita la Convenzione tra i due enti che nell'arco di tre anni prevede da parte di CONSER l'installazione di una serie di telecamere di cui è già stato informato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'accordo prevede che CONSER cederà da subito incomodato al Comune gli impianti man mano che verranno installati e dopo cinque anni saranno ceduti in proprietà. Le telecamere faranno parte del sistema di controllo pubblico del territorio l'iniziativa all'obiettivo di migliorare la sicurezza della zona contro il fenomeno delle rapine in strada e inditta e contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. La realizzazione dei nuovi punti di monitoraggio che andranno a implementare il servizio di videosorveglianza cittadina è stata affidata alla società Estracom.